Al termine di un'estate critica è da dimenticare, tra i pochi villeggianti ed esercenti che ancora resistono nel borgo dei laghi di Sibari si continua a sperare, nonostante il porticciolo ionico rimanga isolato dal mare a causa dell'insabbiamento del canale degli stombi. Pur tra tante promesse e piccoli interventi sulla focia, infatti, nei giorni scorsi l'Associazione Laghi di Sibari e la Lega Navale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che consentirà ai due enti di gestire nel migliore dei modi i fondi resi disponibili dalla legge regionale ad hoc a firma del Consigliere Gallo. Ma le somme previste dalla nuova normativa in realtà non sarebbero destinate a superare la fase emergenziale e quindi a disostruire la foce, ma a storicizzare gli interventi di manutenzione. Servono dunque altre risorse per riaprire la strada verso il mare. Il progetto definitivo è il progetto che è valido in ogni parte del mondo dove ci siano porti di questo genere, cioè che c'è il tragaggio continuo della sabbia che quotidianamente si accumula. Molto semplice da fare, forse costa meno di quello che ha previsto la legge come stanziamento. C'è il deserto perché barche non ce ne sono più, perché non ne arrivano, perché la darsene quest'anno per la prima volta nella sua storia è rimasta chiusa e rimarrà chiusa, perché questa legge non ha risolto nulla, intanto perché non ha la copertura finanziaria per far sì che ci sia un progetto duraturo per l'apertura definitiva dei laghi di Sibari. Marco Lefosse per la CNews24.